Bella a tutti ragazzi Oggi siamo in questoissimo vlog In piscina Molto bello E' molto divertente Quindi ragazzi Io vi invito a guardare il video fino alla fine E a lasciare Minimo 10 like Per un prossimo vlog Bella ragazzi Ciao 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 Allora ragazzi Questo video è terminato Spero che vi siano divertiti E' stata una giornata fantastica Vi ricordo di seguirmi su Instagram E tutti i social in descrizione E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti